benvenuti a una nuova puntata di dr penis oggi con noi danilo 50 anni danilo ha un problema di deficit erettile da più di cinque anni che ha trattato con terapie orali utilizzando i farmaci conosciuti inibitori della fosfodiesterasi 5 però gli effetti collaterali di questi farmaci gli alteravano molto la qualità di vita nel post rapporto adesso questi farmaci non funzionano più danilo ha deciso di effettuare un impianto di protesi feniene graudica tricomponente cosa che faremo la prossima settimana danilo ci racconti brevemente la tua la tua storia si allora 50 anni e ho questo problema dei 45 anni all'inizio sottovalutato poi mi sono rivolto a uno specialista mi ha proposto questa terapia orale che comunque mi provoca questi effetti indesiderati moltissimi mal di testa sono andato avanti per qualche anno poi la questo tipo di terapia non era più efficacia ho provato anche le punture ma non c'erano da fare quindi sono ritornato su internet a cercare chi potesse risolvere questo mio problema e ho raccolto una grossa documentazione su un dottore Antonini e sono rimasto rimasto molto colpito da questo tipo di chirurgia invasiva che lui aveva messo a punto e quindi ho avuto un incontro con il dottore incontro molto tranquillo anzi forse io ero un po' agitato però mi ha messo veramente a mio agio mi ha spiegato come si dovrebbe svolta l'operazione il funzionamento della prosesi tricomponente e abbiamo deciso di fare questo tipo di operazione senti quanto ti è servito vedere video su internet testimonianze tutto quello possibile che insomma documenti questo tipo di procedura ha avuto una valenza una rilevanza importante nel tuo percorso sì devo dire che la documentazione trovata sul web è stata fondamentale perché proprio perché è un tipo di problema che non si confida a nessuno anche i dottori i vari dottori non ti indicano spesso la via giusta e quindi il poter visionare l'operazione il video dell'operazione e testimonianze poi di di essere affidato al dottor Antonini e tutto il resto della documentazione è stato fondamentale sai che pure tu farai parte poi di questo gruppo di persone sì so che anche io farò parte entrerai nel club dei pazienti diciamo che non vedo l'ora però perché una volta fatta l'operazione finalmente mi toglierò questo peso dalle spalle senti concludendo psicologicamente il deficit rettile che in italia è considerata una condizione diciamo un pochino all'atere una condizione patologica un pochino all'atere cioè chi ha deficit rettile non è malato è uno che ha voglia di divertirsi puoi testimoniare a 50 anni cosa significa realmente avere un deficit rettile che poi ti altera la qualità di vita anche nel sociale nei rapporti con gli altri no sì questo è verissimo ti fa vivere un po' defilato un po' da una parte perché tu non puoi esprimere una parte della tua personalità del tuo vivere è un fartello che ti porti dietro che ti fa vivere un po' in maniera grigia anche con il rapporto con le altre persone con il sesto femminile piuttosto che con la propria compagna anche con gli amici perché comunque si ride e si scherza però c'è sempre questa cosa sotto che dà fastidio ecco va bene Danilo siamo pronti tra una settimana tornerai a rinascere io questo te lo prometto e mi impegno perché questo avvenga eh io lo spero e non vedrò vi saluto ci vediamo alla prossima puntata ciao ciao ciao